eccoci nella seconda parte del tutorial, quella che dovevo portarci a costruire il frontend appunto nel precedente tutorial abbiamo costruito, abbiamo appunto creato un backend in Django e quindi ora andiamo a creare un frontend in Vue.js facciamo un attimo a partire il nostro backend per verificare che appunto sia attivo quindi python manager and server all'interno del nostro appunto applicativo ci colleghiamo appunto il nostro indirizzo 1, 2, 7, 8000 se facciamo appi tipo services, ok come vedete ci stampa nei nostri appi di test e sentiamo nel nostro pannello admin, vediamo il nostro backend e ok come vedete abbiamo creato uno slide gallery una pagina servizi una pagina diciamo per le altre pagine poi appunto un blog dovevo mettere le news qui direi che il nostro backend per ora è a posto quindi usciamo dalla cartella backend come se vi ricordate abbiamo caricato tutto anche su github ok come vedete backend sito personale ora se volete andiamo a creare un nuovo repository per il frontend e oppure teoricamente avremmo anche potuto mettere frontend e backend tutti nella stessa cartella git però è andata così e quindi quindi andiamo a creare un nuovo repository lo chiamiamo frontend personale ok ora andiamo qui quindi siamo dentro la nostra cartella sito personale ls qua abbiamo la cartella relativa al backend e quindi ora andiamo a creare il frontend come abbiamo detto con view ovviamente non vi faccio vedere come installare view però potete insomma seguire il tutorial sul sito di view io uso anche viewclay o viewclean insomma che appunto permette di tramite un comando tramite il comando view create e lo chiamiamo frontend ora ci dovremmo andare a creare appunto la nostra cartella con dentro il nostro progetto view qua ci chiede alcune cose che vogliamo installare io scelgo default grazie a tutti ok view è stato installato come vedete se ora entriamo in frontend facciamo ls come come vedete qua abbiamo un po di componenti view e ora andremo a vederli insomma come vedete qua in frontend abbiamo il file packages json dove qua appunto verranno di volta in volta incaricati tutti i packages eccetera che ci servono abbiamo un file gitignor già fatto quindi non abbiamo neanche farlo sforzo di farlo al suo interno appunto ci dice non caricare la cartella node module e altre cose insomma che non ci servono poi qua all'interno abbiamo src che è la cartella appunto dove abbiamo appunto il codice view con components, assets appunto dove si possono caricare immagini eccetera e public anche in public appunto si possono caricare cose appunto che vogliamo raggiungere anche dall'esterno è un po il corrispettivo della cartella media e della cartella statica in django per intenderci e quindi ok ora il nostro view dovrebbe essere attivo per vederlo ci basta fare npm run serve non server ma serve come vedete ora vi sta andando a creare un file compresso ora noi lo apriamo qua i due link ci dà come vedete ci esce questa pagina di view che diciamo la pagina iniziale che ora noi andremo a cancellare perché non ci serve e vi faccio un attimo vedere la struttura qua abbiamo app appunto che diciamo il file iniziale come vedete qua abbiamo un hello world che viene richiamato da qua vedete abbiamo un import hello world from components quindi se andiamo in components troviamo hello world qua abbiamo praticamente buona parte della pagina che vediamo qui però siccome a noi non ci serve questa la cancelliamo e quindi la cancelliamo anche da qui e la cancelliamo anche da qui quindi se andiamo a vedere la nostra app ci dà error perché hello world non è definito infatti noi ci abbiamo qua in components e lo andiamo a cancellare anche da qua quindi ora la nostra app dovrebbe ripartire ma ci dà solo il logo appunto che abbiamo caricato qui e andiamo a cancellare anche questo quindi ora la nostra app dovrebbe essere una schermata completamente bianca e infatti è così prima di cominciare ad andare a costruire i componenti però andiamo ad installare altri due moduli che dovrebbero servirci il primo si chiama viewroot che ci servirà per costruire i percorsi url quindi andiamo qui installation andiamo a copiarci il nostro npm router so che noi vogliamo che venga salvato anche nel nostro package json quindi ne aggiungiamo un meno meno save quindi spegniamo un attimo il nostro terminale aspettate appena di farlo vi faccio vedere un attimo package json come vedete qua abbiamo per ora questo guardatelo bene ora installiamo view router ok ora view router è stato installato e se andiamo qua sempre in dev in dependencies qui come vedete è apparso view router ora andiamo un attimo anche a installare view router copiamo questi codici qui import view router e andiamo qui in main.js e qua sotto incolliamo questo quindi incolliamo qua main.js diciamo è il js principale dove appunto viene poi pilotato tutto insomma il nostro codice view e andiamo a vedere se serve ancora qualcosa ok quindi andiamo su getting started e andiamo a vedere se dobbiamo fare ancora qualcosa ok per ora non facciamo niente dopo andremo ad implementare il view router una volta che avremmo definito un attimo le nostre pagine eccetera per ora lo lasciamo un attimo così il secondo componente che dobbiamo andare ad installare è axios che ci servirà appunto per che ci servirà appunto per diciamo comunicare con le API del nostro backend e quindi andiamo qui su no non qui ma allora npmv axios ok quindi anche qui copiamo diciamo qui il nostro npm install tac tac ok quindi andiamo in package.json e come vedete anche qui è apparso axios e anche qui ci copiamo un attimo questo qui e lo andiamo a mettere sempre indovinate dove nel file main js quindi qua ok e andiamo un attimo a far partire il nostro run server per vedere che funzioni ancora dopo le installazioni ok qua ci dice che c'è un errore perchè abbiamo importato due volte view l'avamo già importato qua quindi non serve importarlo un'altra volta e e e e abbiamo importato forse ancora andiamo a vedere import view ok quindi anche qua lo togliamo a partire lo abbiamo già un attimo a mettere ordine nel nostro codice ok ok quindi torniamo qua ok come vedete ora non da nessun errore il nostro terminale quindi andiamo qui e ok e e e e ora possiamo andare a installare forse anche ah stuporiamo anche bootstrap un'altra volta un'altra volta quindi anche qua andiamo installarla per farlo anche qui facciamo npm install bootstrap meno meno save ok quindi andiamo sempre qua nel nostro package json e abbiamo come vedete bootstrap quindi prima di procedere oltre andiamo a caricare la nostra base su git quindi git init per inizializzare repository poi facciamo un commit un git commit meno m come la descrizione mettiamo first commit no scusate prima git init dopo dobbiamo fare git add poi git commit e poi andiamo ad associarlo al nostro repository online quindi git remote add origin e l'indizio del nostro repository e infine git push meno origin master mettiamo il nostro username e password per accedere al repository come vedete il nostro progettore dovrebbe essere caricato perfetto e quindi ora non ci resta che a cominciare a costruire appunto le nostre pagine ok cominciamo a costruire pure la nostra app quindi andiamo in src app e andiamo ad inserire questo comando qui e poi vedremo questo componente qui poi vedremo più avanti a che cosa serve il router view praticamente qua caricheremo poi tutte le pagine che andremo a governare tramite root quindi una volta fatto questo creiamo un file chiamato router.js e qua appunto nella root del sito quindi siamo qui frontend routers.js e gli mettiamo questo codice qui ora qua come vedete stiamo andando a chiamare delle cose che non esistono però andiamo subito a definirle come vedete stiamo chiamando un componente chiamato home e andiamo a prendere una cartella chiamata page home che per ora non esiste quindi diciamo che questo componente deve essere subito dopo lo slash quindi deve essere proprio la prima pagina che vediamo nel sito se invece possiamo vederla all'indirizzo url slash punto it slash ciao e dovremmo aggiungere questo ma queste cose le vedremo più avanti quindi come abbiamo detto stiamo chiamando un componente chiamato page home quindi qua in src creiamo una cartella chiamata chiamata page al suo interno creiamo un componente chiamato home.v con l'acca maiuscola e al suo interno andiamo a costruire le seguenti componenti template poi qua abbiamo un componente chiamato script e poi poi uno style a cui aggiungiamo la dicitura scoped e poi vedremo più avanti a cosa serve qua all'interno del js dove c'è export default facciamo name due punti home e per adesso può bastare dopo vedremo come implementarlo qua dove c'è template mettiamo un div e per adesso li mettiamo un h1 e mettiamo ciao home perché ci serve solo per vedere che che appunto ce la visualizzi poi una volta arrivati qui andiamo sul main js e qua sotto dove c'è view use router e andiamo a richiamare il nostro file root questo qua che abbiamo creato prima poi creiamo una costante chiamata router e gli diciamo uguale new view root router è aperta tonda graffa all'interno di graffa gli ripassiamo root appunto e una volta fatto andiamo qui in new view e scriviamo router scusate router virgola e ora teoricamente se facciamo partire il nostro il nostro run server dovremmo visualizzare il componente home che abbiamo chiamato prima mamma ma failed to compile un errore un errore in roots src main quindi c'è un errore in main andiamo a vedere come mai allora ci dice che il modulo roots non è trovato non è raggiungibile in main andiamo a vedere come mai import roots ah ovviamente deve andare roots deve andare in src e non fuori da ok ora dovrebbe andare perché io l'avevo messo qui ma in realtà come il 90% di tutti i componenti il tuo codice che faremo sarà sempre qua nella cartella src quindi ora teoricamente non dovrebbe più dare errore ok come vedete è a posto quindi ora se andiamo qui dovrebbe stamparci il nostro ciao home che perfetto quindi fatto questo andiamo invece a creare qui in component creiamo un nuovo file e lo chiamiamo header.view anche qua facciamo la stessa operazione quindi template ora se vedete comunque sto facendo la svelte perché ho installato all'interno del mio editor visual board visual studio code un plugin apposta di view che diciamo un po' ci aiuta a velocizzare alcuni passaggi piuttosto tediosi quindi qua ci vedo un po' insomma scrivere eccetera eccetera insomma ok anche qua abbiamo risolto i tre componenti poi cammin facendo li vedremo meglio a cosa servono e come vedete ok adesso andiamo a scrivere un ciao header poi questo diventerà appunto leader del nostro sito metteremo il menu eccetera per ora andiamo solo a vedere che carichi lo mettiamo header e e per ora va bene così quindi per ora si poi dopo vedremo quindi qua abbiamo ciao header ok quindi togliamo in app noi vogliamo allora vogliamo che l'header rimanga sempre fisso quindi tutto quello che verrà caricato di mobile sarà in router view quindi tutto quello che governeremo tramite i percorsi URL che andremo a definire man mano qua appunto verrà cambiato all'interno di route view mentre ad esempio le header e il footer che vogliamo che rimangano statici li metteremo qua e li metteremo così che richiamandoli come componenti quindi facciamo un import 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 header from aperti apici punto components header poi andiamo qui in components e poi qua possiamo fare due cose possiamo chiamarlo appunto come abbiamo chiamato sopra header e limitarci a questo e proprio che bene e quindi noi andiamo qui facciamo un header chiuso header e teoricamente dovremmo essere a posto e lui teoricamente come vedete qua ha caricato ciao header che è appunto la componente che abbiamo definito qui ora ora visto che ci siamo facciamo un diamogli un breve CSS per differenziarlo quindi facciamo class chiamiamolo nav dopo come ho detto quando attiveremo bootstrap eccetera lo sistemeremo bene ma ora è solo per farvi capire un attimo come funzionano i componenti all'interno di 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 come si chiama view di view ok facciamolo yellow quindi andiamo qui come vedete in tempo reale lui lo ha aggiornato ora vabbè aspettate un attimo andiamo un attimo qua in up e gli togliamo il margin top zero ok poi togliamo i header ma vediamogli un po' di padding padding top 50 e padding bottom padding bottom 50 pixel più in tempo reale come vedete aggiornato ok qua abbiamo header abbiamo detto e e e e e ok ah dicevamo come dichiararlo all'interno del componente principale detto parent allora app come vedete è un parent e header è un child appunto perché un componente che appunto sta all'interno di un altro componente principale l'abbiamo dichiato così però mettiamo che vogliamo avere una dicitura più per non far confusione così vogliamo cambiare in altro modo chiamarlo in altro modo ci basta fare apici due punti header e all'interno di due apici chiamarlo come vogliamo ad esempio mio meno menu cioè facciamo così come vedete c'è da errore perché giustamente dobbiamo andare qua nel nostro header e chiamarlo mio meno menu come vedete poi abbiamo la slash di chiusura e lui va però possiamo fare anche così prendo a seconda di giocarvele insomma possiamo fare appunto mio menu chiuso e poi mio menu chiuso come vedete qua abbiamo appunto l'apertura la chiusura facciamo in modo più tradizionale così funziona insomma e però mio menu fa cagare quindi lo chiamiamo header header menu solo header ok visto che ci siamo andiamo subito a creare il componente footer quindi sempre in componenti nuovo footer punto view anche qua abbiamo ops ok stavolta non è andata bene il primo colpo come l'altra volta template qua dobbiamo sempre mettere un div perché se no lo mettiamo non funziona cioè lo devo comunque mettere un componente all'interno del template perché un template vuoto non non potete ad esempio mettere ciao senza mettere qualcosa prima un divo qualcosa perché il modo in cui poi compila il codice fa sì che debba essere così insomma e qui limitiamo da un name al componente footer e e qua uno style footer back gra ok sto un po' pasticciando facciamo un black color white anche qua andiamo a scrivere ciao footer ok ciao footer eh qua diamogli un po' di padding padding top 50 e padding bottom 50 ok we head companies been registered but not used perchè 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 head 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 cosa stai facendo dobbiamo chiamarlo top header top ah forse non devono essere uguali nomi quindi ok head 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 ovviamente il footer va sotto router view ma però prima dobbiamo dichiararlo qua in component quindi a capo footer così vedere tutti i due modi per dichiarare appunto i componenti sia questo qua dove potete modificare il nome che questo in cui potete lasciarlo insomma come lo avete dichiarato prima del all'interno dello script quando lo avete importato insomma quindi 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 footer footer f maiuscola però non è f minuscola tac tac ok come vedete insomma poi avete avuto un brevissimo una brevissima introduzione con un po' la struttura di view però ora passiamo un po' a fare le cose serie e quindi andiamo un attimo a creare un header e un footer con bootstrap e poi proviamo ad importare i primi dati con axios ovvero apre le varie json dal nostro back end e a importarli con axios ora andiamo ad importare bootstrap quindi andiamo qui nel nostro main e qua da qualche parte magari qui mettiamo appunto import bootstrap dist css bootstrap punto min punto css noi importeremo gli altri componenti tipo i javascript eccetera di bootstrap perché tutta la parte javascript la faremo con con view quindi non ci servono fatto questo andiamo sul sito di bootstrap e ci copiamo un header in bootstrap andiamo su components e scegliamo navbar ok qui scendiamo ok possiamo prendere questa ovviamente questo tutorial non vi farò vedere tutte le rifiniture grafiche perché quella me ne farò poi io con calma questo è solo un tutorial proprio per farvi vedere come funziona view o meglio come si può fare qualcosa con view siamo in modo abbastanza produttivo quindi andiamo su header cancelliamo il nostro nav qua il css qua intanto lo togliamo perché non ci serve e qua possiamo togliere tutto credo ora diamo se va bene così dobbiamo mettere un div non mi ricordo mai quindi facciamo un npm run serve ok come vedete il nostro header bootstrap funziona quindi vuol dire che css è stato importato importato correttamente ma andiamo a linkare la home così vediamo come si linkano le cose usando view root quindi andiamo a andiamo appunto a linkarlo per linkarlo cancelliamo questo qui a classi mettiamo questo componente in in di view qui mettiamo il nostro home qua mettiamo nav link come vedete lo stesso lo stesso a classi che abbiamo qui dove avevamo prima a class e qua dove c'è name mettiamo il name che abbiamo messo in root nel nostro caso quindi home quindi qua mettiamo home e ora torniamo qui sul nostro frontend e ok quindi ora ci vediamo ok giustamente ci tiene in home e e e e gli altri link li andremo a creare dopo andiamo ora a creare una una slider quindi possiamo provare con view hoursome sweeper o swiper non so bene la pronuncia ma questo come dovrebbe venire esiste già una swiper per jquery che diciamo una delle gallerie più utilizzate qui ne proviamo con questa versione fatta apposta per view quindi andiamo ad installare ok ok npm install sweeper view hoursome sweeper meno save aspettiamo che finisca di installarla andiamo a vedere se appare nel nostro package json sembra di si quindi 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 andiamo qui e e e e importiamo tutta questa importiamo questi qua local registration quindi andiamo qui creiamo in component un componente chiamato slider.view anche qua mettiamo sempre template script e style qua mettiamo name due punti slider e qua importiamo i nostri due appunti componenti li richiamiamo appunto dalla sezione dove li abbiamo installati mettiamo un attimo un div per ora poi 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 e quindi richiamiamo i componenti mettiamo anche questo directives che non so bene anche cosa serva però la documentazione si dice di farlo e noi lo facciamo perchè siamo gente che fa sempre quello che gli viene chiesto ok 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 come l'impressione di aver dimenticato qualcosa ma non lo so quindi 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 qua abbiamo ok dobbiamo creare un data result un comp ecco facciamo così ci copiamo tutto il ciccino qua e così non abbiamo problemi poi andiamo qui ci copiamo tutto il ciccino qui tag tanto che cancelliamo tutto qua via poi andiamo i nomi 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 importiamo il nostro componente slide quindi import slider from components slider poi qua ce l'abbiamo già dichiarato perchè forse avevo fatto un test prima e e e e e e e quindi abbiamo andato qui tag slider tag ora lanciamo il nostro view quindi npm run serve e incrociamo le dita errori non ne da quindi andiamo vediamo un attimo qua le cose che non servono 1 2 7 80 80 qui la nostra galle sta andando ovviamente essendo vuota eccetera eccetera però come vedete sta girando qui sta girando quindi direi che sta funzionando ora torniamo su slider e ovviamente qua dobbiamo mettere le nostre immagini quindi noi questo un attimo lo cancelliamo e mettiamo qua solo un'immagine img src ora ne prendiamo una a caso da internet solo per vedere che funzioni dopo invece andremo a prendere dal nostro back end quindi questa copia indirizzo immagine eh dove è che eravamo dove è che eravamo dove è che eravamo ok ok questo dovrebbe uscire quindi 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 torniamo qua tac ok è uscita attaccata al folder quindi direi che va bene però come abbiamo detto in realtà noi dobbiamo sostituirla con le immagini che abbiamo caricato nel nostro back end quindi 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 apriamo un secondo terminale facciamo partire il nostro back end qui e scusate stavo dicendo eh facciamo partire appunto il nostro eh il nostro python il nostro back end Django e andiamo qui su eh ops mi sono perso mi sono perso troppo finestra aperta ok andiamo qui su slider dove abbiamo le nostre API ora dobbiamo prendere appunto le nostre API e passarle all'interno della nostra della nostra slider e qui ovviamente in loop per farlo useremo axios e quindi adesso andiamo a vedere come appunto utilizzare axios per eh per prelevare le API e e visualizzare all'interno del nostro front end prima cosa andiamo in main a vedere se abbiamo importato tutte le componenti axios quindi si le abbiamo importate quindi ora abbiamo possiamo abbiamo due scelte una è caricare eh le API della sliders direttamente qui dal componente sliders oppure eh farlo da home e poi passargli un props all'interno di slider che e useremo questa seconda opzione in modo da lasciare il slider il più pulito possibile in modo da permettere di essere riutilizzabile anche in altre situazioni perché poi è questo il segreto di view è fare componenti che possono essere riutilizzati il più possibile ovviamente parlo di view sto facendo male però eh la logica di view è questa insomma quindi 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 faremo il nostro andiamo a collegare le nostre API da home e poi le passeremo a slider tramite un props per farlo quindi ah dobbiamo 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 allora axios lo abbiamo importato qua quindi non dovremmo avere bisogno di importarlo ancora o forse si si penso che dobbiamo importarlo anche qui quindi import axios from axios poi qua sotto component andiamo a creare una data return e possiamo creare una sliders null poi qua andiamo a creare un campo chiamato methods due punti tac tac andiamo a creare una funzione che possiamo chiamare eh get sliders no potete chiamarla come volete e e e e eh qua 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 eh eh creiamo appunto la nostra funzione axios quindi axios.get axios.get eh li passiamo a ip delle nostre api quindi questo ora esistono modi più eleganti per utilizzare axios noi lo stiamo facendo proprio nella nella versione nel modo più semplice in realtà si potrebbe creare una funzione di axios riutilizzabile il più possibile però secondo questo è un tutorial e e e questo è un tutorial e e e e un sacco di altre cose eh lo facciamo così poi facciamo appunto ven eh appunto ven eh parentesi response con la r minuscola response poi eh meno eh uguale maggiore graph eh graph ecco facciamo un return no vediamo se non ho fatto un cazzo guarda swiss slider uguale response punto data ora per vedere che funzioni prima di passare il valore a slider qua li passiamo la variabile slider e andiamo a vedere se la stampa cioè se ce la mostra in questo modo eh in questo modo teoricamente teoricamente un piffero lo facciamo così facciamo un bel console ah certo ma scusate eh noi qua abbiamo creato una funzione che la chiama ma ora dobbiamo appunto chiamarla appena la pagina viene chiara o viene caricata quindi dobbiamo metterlo in mounted 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 e qua gli passiamo la nostra funzione in modo che quindi appena siamo sulla pagina eh appunto parte eh la funzione venga attivata quindi ora così teoricamente dovrebbe funzionare in effetti funziona l'unica cosa è che dobbiamo mettere la virgola qua giustamente per separare le due cose eh 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 funziona sì fino a un certo punto allora this slider uguale a response data e mi sembra più che giusto facciamo un attimo un console.log slider andiamo a vedere se ci sta ritorno al valore almeno nel log facciamo un response.data e vediamo se almeno nel log lo vediamo quindi 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 aggiorna ispezione elemento console network error il nostro indito è stato bloccato dalla course policy questo perchè questo perchè secondo me dobbiamo andare nel nostro back end e per la course policy insomma quella protezione che quando l'ip non combaccia eccetera insomma blocca le chiamate esterne api per farlo dobbiamo sbloccare django il nostro back end in django e poi chi si ricorda come si fa back end settings proviamo a mettere qui in halloweed host proviamo a mettere qui in halloweed host in modo per vedere se ci lascio lavorare quindi tab tab dobbiamo aggiungere questo funzionale da qua andiamo dove metterlo forse qua forse qua prima di rest framework dobbiamo quindi dobbiamo quindi dargli la course origin hallowall e e e e e andiamo un attimo a capo ops ah sto facendo un casino ok allora andiamo un attimo a capo qua andiamo a capo e qua mettiamo questo comando qua rest framework permission hello honey eh salviamo andiamo allora qui in in middleware aspettate che non mi ricordo in quale posizione del middleware allora forse qua sotto qua sotto dobbiamo mettere questo course headers middleware course middleware virgola dai signori incrociate le dita perchè la vita è già difficile di suo e ci da error basta no module named course headers nel nostro requirement che dovremmo avere forse qua fuori da qualche parte e e e requirements e e andiamo ad aggiungere anche questo packages django meno course meno headers poi dobbiamo andarlo a dichiarare aspettate quindi pip3 install menu r requirements ok ora dobbiamo andarlo a dichiarare però anche nel nostro file settings quindi 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 vim backend settings quindi qua 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 da qualche parte dobbiamo andarti a mettere e e e e e e e e e anche qui e incrociate le dita perchè la vita è difficile vi e e torniamo torniamo qua sul nostro frontend e e e adesso funziona signori uè signori andate qua e quindi ok ora abbiamo come vedete e riceviamo i dati quindi 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 torniamo in view torniamo in view vabbè il console log possiamo toglierlo e e e abbiamo detto che ora dobbiamo passare la variabile slider alla nostra slider appunto per farlo usiamo una cosa chiamata props ovvero due punti possiamo chiamarlo come vogliamo chiamiamolo slider uguale slider e voi direte what is this che cos'è questo adesso andiamo a vedere qui in slider qui in slider prima di componenti che chiamiamo un componente chiamato props due punti aperta quadra ma su interno mettiamo sliders e e e e signori miei sono un povero deficiente e slider no slider scola s e e quindi e quindi come vedete adesso la riceve mamma mia la vecchiaia la vecchiaia quindi ora poi la cancelliamo perchè noi dobbiamo creare un loop quindi in cui appunto in cui appunto in cui appunto faccio vedere eh doppiamo appunto le due le due immagini che abbiamo per farlo non ci basta che fare v meno for uguale aperte virgolette ora possiamo chiamarla item in sliders poi facciamo una key uguale ops item item .id poi questo lo cancelliamo il nostro indirizzo tac qua mettiamo i due punti perchè dobbiamo passare una variabile quindi due punti src uguale e qua gli passiamo item punto eh andiamo a vedere la nostra API item punto image quindi item punto image e qua se volete potete passargli un no niente qua non gli passiamo niente quindi salviamo andiamo di qua e ci da errore ci da errore perchè ci da errore allora v4 item in slider senza la s v bank indiret item ok 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 scusate ma come vedete qua abbiamo la nostra prima immagine e qua abbiamo la seconda appena ok come vedete abbiamo le nostre due immagini chiaramente poi la galle va configurata per essere un po' più apprezzabile eh magari facciamo una roba veloce mettiamo in una classe classe img fluid poi magari mettiamo uno slider im slider img andiamo qua andiamo qua andiamo qua smile img width 100% 100% e virgola ok quindi abbiamo la nostra bella immagine a tutto schermo e dopo chiaramente se andiamo qua eh se andiamo qua nelle configurazioni della slider credo che si possono far uscire le frecce eccetera le frecce si possono mettere ma siccome abbiamo anche altre cose da fare eh di passare oltre la mia idea non è di fare un sito il mio sito fatto bene solo di farvi vedere come funzionano i vari componenti view eh diciamo anche in modo un po' superficiale magari però ha lo scopo appunto quello di farvi vedere un po' un po' tutto e dopo lo metterò a posto con calma quindi comunque la slider l'abbiamo caricata avreste visto come funzionano i props eh quindi avete visto come si carica un componente all'interno di un componente quindi direi avete visto soprattutto come si fa un par come si prelevano le API tramite Axios il che direi non è male e quindi direi di passare oltre e oltre significa andare ora a mostrare i servizi ok ora andiamo a creare la sezione servizi andiamo un attimo a vedere le nostre API quindi 8000 8000 api credo sia credo sia services ok abbiamo due servizi finti magari mettiamo un terzo servizio 3 prendiamo il brand ipsum e e e e e e e pubblicato mettiamo la data h ヴィール ah quindi 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 andiamo un attimo in bootstrap a vedere come possiamo farla, l'idea di farla su tre colonne quindi bootstrap examples documentation layout components card, possiamo parlare di tipo card ma si oppure questa possiamo tenerla per il blog e poi possiamo utilizzarli in entrambi i modi quindi tac, utilizziamo la nostra card e anche qui possiamo scegliere se lavorare direttamente sulla home o creare un componente direi di creare un componente quindi 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 andiamo sempre qua su component creiamo un service.view anzi mettiamolo al plurale services qua incognita ok creiamo il nostro component.view quindi template script style name services style ok qua mettiamo scoped template mettiamo div e qua andiamo a creare il nostro componente componente ok stavo pensando ooooh facciamo così qua il pass no questo lo vediamo dopo noi lo vediamo dopo questo anche qua vogliamo tenerlo riutilizzabile quindi andiamo a creare sempre la chiamata ai services sempre da method in home in modo che potremmo riutilizzare quel componente anche in futuro quindi facciamo un get services ok praticamente copriamo questo in parole a parole dopo e cambiamo solo solo due cose allora qua invece che slider diventa services anche qua invece che v slider creiamo un variabile services che andiamo appunto a dichiararlo anche qua quindi services e e andiamo a importare il nostro componente quindi import services services from components slash services quindi andiamo qui in components però stavolta andiamo rinominiamo in services in per list services ora 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 il mio dubbio vero è se luppare tutto qua dentro ottenere il singolo componente card e creare il loop qua all'esterno ovvero passagli tutti e tre i dati oppure passagli di volta in volta o un singolo dato e duplicare il componente nella pagina home proviamo proviamo con questa seconda opzione quindi questo lo lasciamo un attimo stare così com'è anzi credo che possiamo togliere anche quel div qua e anche quel div qua poi andiamo qui in home quindi qua abbiamo il nostro slider qui creiamo un div punto row eh anzi vorremmo creare un container prima vorremmo creare un container quindi div punto con aspetta non mi ricordo mai se è content o container cosa di bootstrap è un attimo qua su layout 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 container container signori miei e container container qua dentro mettiamolo row dentro il row creiamo una colonna div punto call noi facciamo call 12 e call md 4 e qua dentro importiamo il nostro service list quindi noi qua dobbiamo passargli al service list un singolo dato e duplicare questo per tutti i nodi che abbiamo nel nostro per tutti gli oggetti che abbiamo nel nostro json ovvero 1 2 3 4 5 6 ne aggiungeremo ancora insomma quindi 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 qui qua dobbiamo passare un singolo elemento e non tutto il json quindi non gli passeremo services anche qua dobbiamo ancora definire services ma gli passeremo l'item di services quindi il loop lo mettiamo qui quindi facciamo un v for uguale item in services poi key uguale item id e e quindi ora se andiamo in front dovremmo vedere dovremmo vedere services list services list services from components services cosa c'è che non va cosa c'è che non va andiamo a leggere bene l'errore services the component has been registered but not used ma se ce l'ho qua ma è certo ma è detta s bastarda ah brutto non so per scrivere quella tastiera andiamo adesso che errore da services is defined but never used come ehm services services ah tech this get services tac 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 vediamo se così cambio qualcosa allora riga 20.8 riga 28.24 riga 28 ok mancava la maiuscola diventando un parto questo frontend qualcosa ero sbagliato vorrei che fosse un errore qui vediamo se vediamo vediamo ok ma vedete il compilatore di il compilatore di view è molto preciso insomma ok comunque come vedete qua abbiamo i nostri tre elementi vogliamo prendiamola di una sistematina perché vanno abbastanza caguerre ehm quindi ehm no scusate no o comunque vi ripeto questo è solo una demo quindi non è che ovviamente bisogna stare più curati col css con tutta bene ehm con tutte le cose insomma questa è solo una demo per farvi vedere un po' come funziona vjs e niente di più quindi non è che se le cose sono un po' disallineate un po' buttate lì alla buona perché un tutorial è già impegnativo di suo da fare e se sto di anche curare la grafica finiamo da qui al 2015 quindi ho ancora un po' di spazzatura niente oggi non è proprio giornata a scrivere ok ok qua abbiamo i nostri 3 card ora dobbiamo passare i singoli valori quindi qua gli passiamo un props come abbiamo fatto in slides quindi props e diciamo via lo chiamiamo lo chiamiamo service singolare perché gli passiamo l'item ovvero gli passiamo questo qui quindi il singolo elemento quindi andiamo in service mettiamo qua il nostro props di punti quadra lo abbiamo chiamato service quindi andiamo qui qui dove cercare the title mettiamo service punto come abbiamo chiamato il nostro variabile title title qua mettiamo service intro intro e qua poi metteremo il link il link mettiamo vedi e poi vedremo appunto come crea una pagina appunto sempre tramite view route una nuova pagina come linkarla eccetera eccetera ma lo vediamo tra un attimo intanto qua facciamo un attimo in sospeso andiamo a caricare l'immagine quindi qua mettiamo i due punti perché gli passiamo direttamente la variabile quindi non abbiamo bisogno delle delle due graffe hit item image che poi di certo non saranno grandi uguali quindi verrà tutto sballocchiato error 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 perché mi dai error h5 ah ok 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 e non dice niente però come mai come mai come mai come mai quindi torniamo di qua service uguale item qui e 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 qui ok come vedete sono usciti i nostri ehm tre servizi avevi l'immagine uguale solo perché io ho passato uguale nel back end qua come vedete cambia anche qui ovviamente immagini della larghezza uguale eccetera eccetera se lo si vuol far uscire bene ok ora andiamo a a costruire a visualizzare le news i blog insomma come volete chiamarlo in home e poi ehm e poi creiamo le pagine di dettaglio e poi e poi e poi ehm dire che potremmo anche fermarci qui per tutto per questo tutorial aspettate che non mi ricordo se avevo ok dovrebbe essere post ap post ok ok ci abbiamo abbiamo detto solo una news e poi devo ad aggiungerla intanto continuiamo a farlo uscire il metodo è sempre lo stesso anzi 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 volendo fare i fighi possiamo anche fare teoricamente nel blog dovremmo passare anche la data però facciamo i fighi e utilizziamo un componente che abbiamo già ovvero il componente servizi quindi 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 duplichiamo questo lo facciamo così lo facciamo gli eleganti mettiamo un hu h2 e lo chiamiamo servizi poi mettiamo mai un divisore div hr so proprio il proprio della differenza questo lo chiamiamo blog list e un attimo mettiamo qua le spazzature blog 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 list a virgola quindi abbiamo poi la stessa spazzatura e abbiamo detto gli utilizziamo questo qui ma passandogli appunto eh posts che poi dobbiamo andare a creare quindi service dobbiamo lasciarlo se avessi stato più corretto va bene ormai lo lasciamo se avessi stato più corretto mai chiamarlo anche qua item o qualcosa in modo da tenere poi le variabili all'interno conformi visto che lo riutilizziamo anche per news però ormai è fatta così quindi va bene accontentiamoci e no va bene dai facciamola eh facciamola giusta facciamola giusta item item andiamo qui in service facciamo item 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 e anche qui item in questo modo no possiamo riutilizzarlo ancora meglio avendo anche il props eccetera con un nome un po' più neutro rispetto a service in questo modo utilizziamo anche per post e quindi dobbiamo andare qua e chiamiamo la nostra funzione get posts ecco qui c'è sempre qua gilbertino tac tac tag 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 posts 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 eh pa 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 posts quindi 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 proviamo a farlo proprio alla cieca ma ok quindi mettiamo anche qua h2 news e e e e e teoricamente teoricamente se i campi sono abbastanza uguali title intro body mage combattono quindi teoricamente dovrebbe andare di già invece no ma semplicemente per il motivo che devo richiamare la funzione poi mounted perché voglio che parte in automatico quindi get post e come vedete anche le nostre news escono andiamo un attimo mettendo ancora in back end proprio perché voi dubitate di me quindi andiamo a mettere ancora in back end appena lo trovo services home news tech view js ciao lorenipsum maledetto lorenipsum aspettate che vado a copiare lorenipsum di qua una fotina una fotina questo caso tech ma vi pare che aveva intanto non mettiamo perché mettere una grande arte se ne abbiamo diciamo ancora una c'è 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 le nostre tre app sono perfettamente funzionante il componente quindi abbiamo riutilizzato il componente service per la news insomma questa è la grossa logica di view componenti il più riutilizzabili possibili e quindi 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 direi che possiamo concludere questo tutorial facendo un link al dettaglio poi con questo possiamo essere diciamo abbiamo fatto quello che c'era da fare diciamo come cross introduzione a un back end jungle era una è un front end view poi chiaramente si possono sviluppare cose molto 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 più complesse però non vorrei tirarla troppo per lunghe con questo tutorial quindi direi che questo possiamo chiamare chiudere qui facendo la pagina a dettaglio e poi prima e più avanti fa dei piccoli tutorial per farvi vedere meglio come funziona axios eccetera eccetera quindi cominciamo a creare la pagina a dettaglio torniamo qui qui in page creiamo una pagina chiamata possiamo chiamarla service possiamo chiamarla detail io la chiamo detail perché per pigrizia siccome non voglio poi fare una seconda pagina a dettaglio per il blog direi di farne una anch'essa riutilizzabile no direi che dobbiamo farne per forza due perché chiamiamo stavolta axios il dettaglio axios dall'interno quindi si facciamo quindi una chiamata service service detail service in realtà si potrebbe far tutto da qua e richiamare le pagine passando sempre i props eccetera eccetera però sono un po stanco quindi facciamo una semplice ho dovuto fare un tutorial più grande di me probabilmente quindi facciamo così facciamo un name chiamiamolo service detail poi il resto vediamo dopo il resto vediamo dopo un attimo un attimo un attimo un h1 c'è una po più giornata con la tastiera un h1 ciao so per vedere che appunto quando lo mandiamo di da funzioni insomma quindi qua abbiamo la nostra pagina di te di service quindi dobbiamo andare in roots in roots che un attimo questo vediamo qui allora la chiamiamo service di tema potete chiamare come volete questo service detail questo invece non potete chiamarlo come volete ma quindi service di te poi 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 dobbiamo chiamarla diciamo un percorso service slash e poi gli diamo l'id quindi così teoricamente passando di service id l'id del nostro nostro detail dovremmo poter switchare sulla pagina di là che vi ripeto la pagina di là viene caricata qui all'interno del router view appunto al posto quindi della struttura che vedete attualmente tranne ovviamente il footer view adesso c'è d'errore perché vedete cosa un unexpected token un attimo vedere root unexpected token ah ok qua non ci vuole la virgola cosa un certo perché si chiama service perché si chiama service tutto tutto ok ok a posto questo con un micro più eravamo arrivati ok ad esclusione del leader e del footer che rimangono fissi perché appunto sono fuori dal dal router view quindi tutto quello che all'interno del router view tramite appunto per il router view può essere cambiato in modo in modo in modo diciamo in modo attraverso il link che andremo a creare Per linkarlo quindi andiamo, andiamo Sto facendo questi versi perché mi sono reso conto che il nostro grande piano di fare Un sistema riutilizzabile si incippa qua sul link perché se io qua linko il dettaglio del service ho finito di poter utilizzare il componente services qua in home due volte anche per le news però vabbè facciamolo e dopo vediamo di trovare un'alternativa Quindi metto qua il mio router link Poi qua gli passo appunto id due punti e qua gli passo appunto service detail Service detail poi passo item id E ora ve la spiego Service detail routes Poi id Routes Questo qui E 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 Item id appunto il valore del proprio id che abbiamo appunto qua E Dall'oggetto che vogliamo andare a vedere in dettaglio insomma E E E Quindi questo lo cancelliamo e poi chiudiamo il router link perché direi che siamo a No aspettate lo chiudiamo Prima scriviamo appunto E E E poi lo chiudiamo Quindi Se ora noi andiamo qua sul nostro front end e se clicchiamo qua su dev Ops Ok vedete? Ci ha mandato una pagina a dettaglio Clicchiamo su home e torniamo di qua E 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 Quindi Ma adesso Qua abbiamo appunto l'id Scusate Allora Vediamo le cose che non ci servono Service Detail Ci serve Home Per intanto no Main Per intanto no Slider No Quindi Qua abbiamo il nostro service detail Ora Andiamo a creare un Data Return Data Come vogliamo Chiamiamolo Sempre service Poi 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 Data Ok Adesso andiamo a creare un mounted Ma che poi adesso non andiamo ad utilizzare Lo Utilizziamo dopo quando creeremo appunto il metodo per 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 la nostra pagina a dettaglio, quindi methods, due punti, get, possiamo chiamarlo come vogliamo, get data, get service, come volete, insomma. Qua è abbastanza simile al codice che abbiamo usato in home, con la differenza che dobbiamo passare anche vd, quindi copiamoci un attimo questo access qui. Service, ok, scusate, dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo importare anche Axios qua dentro, quindi andiamo subito a farlo, se andiamo Axios qua, e qua dobbiamo passare gli ld. Come lo otteniamo gli ld? L'otteniamo in questo modo. Allora, lo otteniamo, qua lo mettiamo più e poi li passiamo visrouteparams.id, così tecnicamente dovrebbe prenderlo dall'url e passarcelo qua, volendo si può fare una cosa più elegante, metterlo qua in return e poi può passare una variabile, però direi, eleganza lasciamola per un altro giorno, quindi vis.getdata, ora cambiamo un attimo il nostro forum, ciao qua, e gli mettiamo appunto service, non è services ma è service, ok, andiamo a vedere se ce la mostra, andiamo via, se ce la mostra, ci da errore, perchè, 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 mounted this data, metter, unexpected token, unexpected token, ah, ah, sono un coion, ah, quindi, ho fatto quest'altro, statistica, allora, un attimo, allora return, return, qua chiudiamo un return e quindi abbiamo bisogno di ancora una graph qua, giustamente, qua ci va la virgola, poi, quindi questo lo portiamo un attimo indietro qua facciamo un mounted e rimettiamo il nostro this get data eccola ok 27 riga 27 27 ok è stato un casino con le graffe ok eravamo qua clicchiamo qui ok qua ci manda ma non ci stampa non ci stampa il dato come mai, v service uguale response data service, andiamo a vedere il nostro indirizzo allora torniamo un attimo su service services ok passiamo di p2 ok qua funziona services dash 2 non ditemi che è perché vuole la selection anche di qua ditemi che non è questa la ragione ditemi che non è questa la ragione era quella la ragione ok quindi qua come vedete adesso abbiamo i nostri dati impaginiamo un po' così alla svelta perché altrimenti non finiamo più quindi 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 service 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 quindi h1 quindi vabbè vabbè mettiamo un container div.container pack 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 ok service punto title ok poi service punto boy ok ok e e e e e e e poi vediamo passiamo l'immagine gli passiamo l'immaginetta quindi 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 migliori punto road div.col pack div.col col 12 col 6 da prendiamo questi due qui tag tag e mettiamo tag 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 ups ups up in immaginetta immaginetta img tag 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 servizio.img tech class img fluid tac devo vedere se pochè è uscita tech come mai cos'è che abbiamo sbagliato come non c'è l'immagine come non c'è l'immagine allora raw call ecco abbiamo sbagliato cosa che abbiamo sbagliato niente allora vediamo servo ok come vediamo mi vede la modifica ma proviamo a spegnere qua a farlo partire ok 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 ah allora ah e met di c oh ah ok ok è rimasto un po' intrippato con la cache però la foto non esce la foto non esce perché i servizi pg certo e service image mamma mia mamma mia oggi non è giornata per fare il tutorial ok qua se volete un po' di padding a detail a to 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 Ok, quindi dobbiamo in nome, da server, da da da, software, ok. dicevamo le news noi abbiamo voluto riutilizzare in home sempre il componente che avevamo fatto per i servizi anche per le news e adesso però si presenta il problema si presenta il problema che vedete se io clicco su jango mi manda su server perché giustamente noi abbiamo linkato il server quindi cosa possiamo fare possiamo fare questa furbata qua che non è elegantissima però sono tempi di magra facciamola facciamola torniamo qua su home e gli aggiungiamo un secondo props tipologia uguale poi diciamo che servizio mettiamo i due punti noi stiamo passando una variabile ma un valore nostro quindi una stringa normale non è una variabile quindi anche qua andiamo riprodurre tipologia e quali mettiamo news quindi andiamo qua nel nostro componente services e qua utilizziamo il caro vecchio ifs ma anche solo if volendo if aspettate v if scusate ancora prima dopo item dobbiamo mettere tipo tipologia mi sembra che abbiamo chiamato così di là si si tipologia va bene v if tipologia uguale uguale come abbiamo chiamato servizio 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 poi ne facciamo un altro questo chiamiamo news detail che dobbiamo un quattro anni un terzo alto quindi ricordatevi dopo che dobbiamo andare in router lo chiamiamo news e tutto il resto resta uguale quindi 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 andiamo in routes praticamente copriamo questo quindi andiamo qua e service detail rimane perché lo stesso no non è lo stesso componente abbiamo nella campo un componente dettaglio che è news detail news detail ci copriamo il nostro abbiamo nostro service ci occupiamo perché alla fine uguale anche qua poi volendo giocando con l'attenzione si possono si potrebbero utilizzare anche questo il documento ma insomma è un po' aggiostrarvelo a voi con un po' di pazienza conoscendo sempre meglio view se riesci a riutilizzare molto con le dovute accortezze questo chiamiamo news.view raccogliamo questo lo chiamiamo news detail questo poi se chiamiamolo post anche se potremmo evitare perché andrebbe bene anche service visto che le variabili sono quelle però facciamolo ok ma quindi post 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 tutta news news detail torniamo in routes news detail news detail qua diventa news e ora andiamo ad importarci sempre da qua appunto ta 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 che abbiamo chiamato solo news quindi così quindi 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 service news news dire che dovremmo esserci ci da errore perché ci da errore alla riga 3 giustamente giustamente perché anche qua dobbiamo chiamarlo news detail torniamo di qua ok quindi ricordiamo su service andiamo su service scendiamo andiamo su news no c'è ancora andiamo ancora su server andiamo ancora su server come mai questo facendo come mai questo facendo come mai questo facendo come mai come ah certo 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 ah perché qua dobbiamo modificare siamo su news ma stiamo ancora chiamando services quindi dobbiamo andare su post post id quindi come vedete adesso ho già cambiato quindi ok funziona facciamo un'ultima prova allora servizi ci manda sul dettaglio del servizio news ci manderà sul dettaglio della news esatto quindi 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 direi che ci siamo dire che questo tutorial può fermarsi qui poi nel prossimo tutorial vedremo come utilizzare questi due applicativi ovviamente graficamente si può fare molto meglio quello che faccio io con calma questo è un tutorial veloce come credo di avervi già ripetuto per la terza volta sono un po' noioso come ho già ripetuto per la terza volta o quarta o quinta chi può dirlo adesso ho proprio un tutorial per farvi vedere come funziona view anche il riutilizzo dei componenti può essere fatto molto 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 meglio in maniera molto più precisa molto più pulita bla 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 lo stesso però dica si fa l'utilizzo di axios eccetera però se non avete mai usato view credo che qui un po' potreste anche capirlo nonostante io sembri un ubriaco soprattutto oggi più del solito a parlare e ma è stato un sabato tedioso dopo un mese di quarantena quindi capitemi un po' e quindi niente niente quindi insomma è tutto qui nel prossimo tutorial vediamo come dockerizzarli e poi forse vi farò anche vedere come configurare DNS Nginx eccetera per poi farlo uscire online e quindi niente se vi è stato utile se non mi piace ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao